Sono proprio in linea qui davanti al palazzo del centro per l'impiego, diciamo così, la provincia, ma in realtà siamo qui perché c'è un ufficio della regione dove poi i lavoratori delle Naidi intorno alle 16 incontreranno l'assessore regionale Mauro Febo. Si cercherà di capire come andare avanti. Intanto veniamo dal presidio che si è fatto questa mattina sempre davanti alle Naidi. Si sono spostati tutti qua, noi li abbiamo seguiti per questa diretta e anche per farci raccontare un po' a che punto siamo. Mi sembra che grandi modifiche non ci siano. Di sicuro c'è che una struttura importante e storica per la città di Pescara e per i dintorni, non solo Pescara, anzi c'è anche Montesilvano che è lì al confine, ma storica sotto tutti i profili, sportivo, di intrattenimento, di giochi per bambini, di parco, è ancora chiusa. Questa struttura non si riesce a venire a capo di questa matassa. Voi oggi cosa chiederete in particolare all'assessore Febo? E lo chiedo a Guido Cupido della CGL Abruzzo. Sì, noi siamo qui in presidio e continueremo praticamente a fare presidi fino a quando non ci verranno date delle risposte. Chiaramente noi abbiamo le idee chiare, i lavoratori hanno delle idee chiare e abbiamo degli obiettivi assolutamente necessari da raggiungere. Il nostro obiettivo principale è riaprire quella struttura. C'era stato già un impegno, prima ancora del fallimento della Progetto Sport, a tenerla aperta, perché da una parte consentiva agli utenti e quindi alla cittadinanza di fruire di un servizio sociale, perché intanto questo è anche una piscina per una città come questa e dall'altra offriva la possibilità di avere una continuità occupazionale ai lavoratori che ci lavorano dentro, che vorrei ricordare ammontano circa 70 persone, con le loro famiglie chiaramente. Noi quindi abbiamo la necessità di avere delle risposte, prima tra tutti, e quella di riaprire in tempi celerissimi l'impianto. Quindi oggi chiederemo ai rappresentanti della regione, Febo, immagino che sarà lui il nostro interlocutore, di darci dei tempi, dei finiti, e quindi una tabella di marcia che renda disponibile quella struttura, con degli interventi straordinari di manutenzione che devono essere fatti, perché per troppo tempo quell'impianto è stato abbandonato a se stesso. E quindi c'è la necessità di garantire quegli interventi, il ripristino necessario a farlo essere nuovamente operativo, da una parte e dall'altra anche la sicurezza di quell'impianto, perché non dimentichiamo che viene frequentato da centinaia di migliaia di utenti giornalmente, a cui noi dobbiamo garantire la sicurezza. Il secondo che chiederemo, scontato e va da sé, è quella della continuità occupazionale. Nel momento in cui avremo avuto rassicurazioni di questo tipo, chiederemo e pretenderemo dalla regione, quindi dai loro rappresentanti, che si facciano carico delle vicende di questi lavoratori. Non possono essere altri, devono essere questi i lavoratori a cui deve essere data una continuità occupazionale. Un'altra domanda che vorrei porre, la pongo a Piero Perna, sempre un rappresentante sindacale e oltre che dipendente naturalmente della Progetto Sport, la domanda che vorrei porre è questa, quanti stipendi dovete prendere? Allora, noi siamo indietro e dobbiamo percepire gli stipendi di febbraio, marzo e aprile che stiamo maturando adesso. Noi chiediamo alle istituzioni e alla politica tutta di fare uno sforzo superiore per poter riaprire questo impianto, perché noi non riusciamo a capire come il 26 ci sono le elezioni per il sindaco di Pescara, il 26 poi se ci sarà il ballottaggio vedremo, ma il 26 che sarà eletto il sindaco di Pescara, le naia di che sono il simbolo della storia e di tante generazioni che hanno vissuto in quella struttura, rimarrà chiusa. È una domanda alla quale noi con forza cerchiamo di trovare una soluzione. Questa adesso è la situazione, sicuramente una situazione in evoluzione, perché appunto poi ci sarà questo incontro con l'assessore regionale Febbo, Piscina che di fatto è della regione che poi l'aveva affidata alla Progetto Sport e che è fallita qualche giorno fa, ne abbiamo avuto notizia, bisognerà vedere a questo punto chi si farà carico della gestione e chi risolverà anche le questioni economiche. L'ultima cosa che voglio dire è che insieme ai lavoratori ci sono anche molti genitori dei ragazzi che frequentano le piscine, dove si fanno anche trattamenti fisioterapici, non è un piccolo fronte, ma è un fronte ampio che chiede che la struttura venga riaperta e che naturalmente vengano pagati coloro che ci hanno lavorato.